guarda è una paura che va e viene perché ogni volta che un disco esce e magari va bene insomma il pubblico la critica lo accoglie bene cioè ti sembra sempre per un periodo di tempo che il periodo magari in cui lo porti in giro dal vivo e così via che quella sia la cosa più bella che hai fatto e quindi dici se questa è la cosa più bella se c'è quel primato e adesso io non posso andare sopra non posso dire qualcos'altro la cosa si sblocca quando inizi a capire che questa regola dei primati è una cavolata che ti auto imponi tu da solo perché poi chiaramente ci saranno delle cose che piaceranno di più delle cose più fortunate meno fortunate e così via però c'è sempre tanto di cui parlare cioè l'esperienza delle persone poi al di là della professione che fai è sempre talmente tanto ricca che in un anno della vita di chiunque succedono mille vite e quando ricogli quella cosa lì quando si risblocca quella cosa lì quando riesce a ripuntare quella lente di ingrandimento lì riparte la scrittura e quindi riparte un altro disco riparte un altro progetto e così via in questo disco è stato così c'è ero convinto che l'ultimo disco fosse tanto che fosse tanto ricco fosse tanto di tanto proprio no e quindi per me era difficile immaginare un sequel cioè adesso cosa succede dopo è in realtà perché non c'era bisogno di creare un fiert rouge cioè i dischi vivono da soli no cioè i dischi tra di loro negli anni possono essere anche contraddittori possono essere possono smentire quello che c'è stato prima possono approfondirlo possono analizzare tutt'altro e quando ho tolto insomma tutte queste questi movimenti cerebrali cervellotici è realtà insomma c'è stata una libertà di scrittura bella che mi ha portato insomma a questo disco tantissimo tantissimo uno perché io ho sempre avuto un legame con l'immaginazione fortissimo cioè a me piace proprio giocare mi piace creare le storie ma è un esercizio costante cioè anche nella vita di tutti i giorni nel prendere i treni nel mi piace vedere anche quello che solo io vedo capito vedi una persona non la conosce dice ah io so già tutta la sua storia quella cosa lì è un gioco che mi piace fare sulla scrittura diventa l'ennesima potenza il tutto perché l'immaginazione a quel punto è una scusa per entrare in luoghi che altrimenti non riusciresti a visitare no cioè la parola il tono emotivo c'è tutto no ci sono tutte le chiavi che servono per andare lì in quei luoghi lì e farli vedere agli altri invitare gli altri ad andarci e quindi insomma poi l'immaginazione per me diventa un grande un grande inchiostro per scrivere allora la prima traccia che ho scritto in assoluto è stata viaggio nel tempo di cui scrissi però soltanto poche frasi cioè poche non aveva una sua forma compiuta e poi in realtà l'ho recuperata poi dopo 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 ci è arrivata molto molto tardi poi la chiusura effettiva della canzone non perché non riuscissi è perché ero convinto era un momento di autogiudizio talmente tanto forte per cui qualsiasi cosa stessi scrivendo non la riconoscevo cioè non gli davo modo di crescere la trovavo già pensavo già di immaginarla come una cosa creativamente debole quella cosa lì ci è voluto un po di tempo ci è voluto il fatto di rendere anche te la dico male perché sembra di renderla fredda però di rendere automatica la scrittura cioè c'è stato un momento per cui io dovevo scrivere senza chiedermi perché senza chiedermi se fosse ispirata o no però buttare fuori cioè io per dire un esercizio che facevo era che tutte le mattine appena sveglio cioè proprio non dovevo manco prendere il caffè niente proprio appena sveglio dovevo riempire tre pagine poteva essere qualsiasi cosa anche semplicemente non so non so cosa scrivere non so cosa però dovevo riempire tre pagine era semplicemente l'esercizio soprattutto in quel momento no in cui ancora sei un po nel dormiveglia quindi l'inconscio parla con l'inconscio è una roba strana no ho scritto delle cose che sia grammaticalmente che concettualmente non avevano senso delle cose piene di pigrizia delle cose annoiate però quella roba lì mi ha dato poi lo stimolo effettivamente a ricogliere poi quando arrivavano i momenti più ispirati e quindi anche a recuperare una viaggio nel tempo che pensavo fosse una cosa che non non avrebbe avuto modo di crescere un po su tutto questo è cioè io con questo disco col fatto che si parla tanto dell'astrazione cioè questo disco parla di come effettivamente le persone vedono tutto il reale che ti sta intorno no è reale tu lo immagazzini con tante sequenze di pensiero dimensione dello spazio la dimensione del tempo la dimensione dell'immaginazione no che è quella con cui poi si rielabora si fanno crescere i ricordi si abbelliscono si imbruttiscono si rendono più drammatici e così via quelle forse sono i tre cardini con cui poi tutto il disco è costruito che sono almeno per quanto mi riguarda i tre cardini con cui bene o male traduco le cose il tempo vuoi anche solo per una dimensione musicale cioè un accompagnamento musicale continuo alle cose cioè non è che quando non scrivo non la sento quella cosa cioè è come se ci fosse una colonna sonora costante e anche la spazialità in quel senso ha tanto a che fare con la musica no il suono che è più lontano il suono che è più vicino in una stanza più grande in una stanza più piccola quella cosa lì per me ha tanto a che fare con il luogo e poi l'immaginazione che appunto come ti dicevano è proprio l'inchiostro con cui effettivamente le idee si imprimono sulla carta è un linguaggio che fa tanto parte del mio quotidiano non gli avevo mai dato la possibilità di entrare nella musica cioè avevo sempre erroneamente ha avuto una dimensione come se ci fosse stato un buttafuori all'ingresso delle pagine che dicesse se non siete pensieri profondi drammatici non potete entrare questa volta invece era proprio entrate tutti entrate tutti e quindi ci sono stati anche momenti in cui anche l'ironia entrava anche la caricatura entrava anche e quella cosa in realtà mi ha divertito molto devo dire la verità cioè ad esempio umorismo italiano uno dei primi pezzi che scrivo cioè che in realtà nella mia testa di solito quando arrivavano i pezzi più i brani no più ritmati quelli che normalmente per per facilità chiamiamo i pezzi felici no quelli sono sempre le cose che lasciavo in coda negli album perché dicono noi da di come si scrivono non mi vengono naturali e invece questa volta è stato anche quasi un po il contrario è cioè quel gioco ironico decadente ironico caricaturale è entrato molto subito proprio sai cos'è sono sono timido tantissimo soprattutto quando esce un disco sulla puntigliosità è una cosa che ha limite del patologico però col fatto che tante cose le ho fatte io del disco mi auto creavo semplicemente un problema cioè che per chiudere una cosa stavo lì dicevo ma cavolo devo finirla devo finirla ma perché non è così un autosabotaggio che però ho gestito è ci sono stato nelle consegne tutto quanto sono molto soddisfatto e sul discorso della critica invece c'è è forza io comunque il fatto che quando esca un disco hai anche una dimensione diversa le prime volte che ascolti il disco con qualcuno davanti cioè la cosa che succede è guardare che cosa succede nell'espressione degli altri capire se le espressioni che stai provocando sono lo stesso sentimento con cui l'ha scritto se c'è la noia chi prende il telefono chi sta ascoltando chi si commuove in cose che tu pensavi non potessero commuovere e chi invece lo fa in cose che effettivamente tu dicevi questo è il momento in cui farà piangere cioè quella cosa lì per me è un modo diverso per ascoltare il disco che avviene solo quando si ascolta con qualcuno e su quella cosa sono molto timido e quindi sono chiaramente felicissimo che esca però è un turbine di cose poi allora quella è la sicurezza creativa cioè artisticamente sono soddisfatto che gli anni di esperienza della mia professione mi abbiano portato a questo cioè un progetto che artisticamente tecnicamente presento molto soddisfatto e però poi il disco ha empatia e sull'empatia invece lì è proprio una sfida continua che va tra ascoltatore ascoltatore e quella cosa lì mi rende molto più timido e paranoico forse quella che mi ha richiesto più tempo è stata atlante degli amanti perché è come se avesse tante stanze diverse a livello melodico a livello lirico e così via e quindi ci ho messo un po più di tempo per capire quali erano i giusti corridoi per portare da una stanza all'altra però in generale c'è nessuna traccia mia sono nate tutte in modo molto naturale ci sono canzoni che hanno avuto bisogno di riposarsi un po e poi ritornare dal lavoro e poi riposarsi e altre che invece sono nate così proprio in maniera molto istintiva in un pomeriggio in due giornate al massimo quindi forse atlante degli amanti è quella che mi ha richiesto più tempo adesso in store che finalmente possiamo rifare nel senso che io non incontro il pubblico degli ascoltatori del disco da tanti anni vuoi che c'è stata la pandemia poi il disco precedente era uscito veramente tanti anni fa e quindi finalmente posso ritrovare gli ascoltatori poi la musica dal vivo che è un altro ambiente ancora si riparte a maggio con due anteprime e poi un tour un po più articolato no 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 Grazie.